L'associazione culturale Demos ha depositato al protocollo generale del comune di Giulianova 600 firme per richiedere la calendarizzazione di una proposta di iniziativa popolare riguardante la riqualificazione del quartiere annunziata. La proposta parte inizialmente da un'idea di un gruppo di cittadini appassionati di basket per il ripristino del campo di pallacanestro in via Mattarella e si è ora estesa alla riqualificazione complessiva del quartiere. Un gruppo di appassionati di basket ha avuto il merito di muovere le acque per richiedere la ristrutturazione e riqualificazione in particolare di questo campo di basket su cui ci troviamo in questo momento. Da lì prima attraverso la distribuzione di un questionario tra i cittadini per avere un'idea delle richieste, delle esigenze della cittadinanza rispetto a quest'area. Poi attraverso l'elaborazione di queste proposte in un insieme strutturato e complessivo fatta da un tavolo tecnico in cui erano presenti come componente maggioritaria ovviamente degli architetti, siamo passati alla costruzione di una proposta più ampia da portare alla discussione del Consiglio Comunale attraverso una raccolta di firme tra i cittadini. Il progetto è stato ampliato anche grazie a un forum cittadino tenutosi nel Teatro Cursal, dove su iniziativa di un tavolo tecnico composto da esperti locali si è delineata una visione più ampia che include la ristrutturazione delle aree verdi e delle strutture esistenti, nonché il miglioramento dell'edilizia pubblica. Il progetto potrebbe essere molto ampio perché qui intanto ci troviamo in un'area verde che si trova in un quartiere densamente popolato e quindi tutti dovremmo sapere che più aumenta la densità di popolazione più aumenta l'importanza e il valore anche per la salute dei cittadini, per la qualità dell'aria e molto altro, delle aree verdi urbane. Gli interventi da fare potrebbero essere parecchi, a costo zero, a impatto zero e con notevole vantaggio per la riqualificazione di tutta l'area.